Gian Maria Antinolfi sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip, che abbandonerà la casa più spiata d'Italia per tornare al suo lavoro di imprenditore. Quando Gian Maria si è presentato come imprenditore, nessuno gli ha dato credito. Ha affermato l'autore del GF Vip nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi. Lui ha preso davvero un periodo sabbatico per il Grande Fratello Vip per poi tornare a lavorare. Tra pochissimi giorni questo periodo termina. I proprietari dell'azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Secondo me Gian Maria entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro. Cosa potrebbe fargli cambiare idea? L'amore per Federica? Ma il prezzo da pagare è perdere il lavoro e penso che lui non rinuncerà. Secondo me perderemo Gian Maria come concorrente. Queste le parole dell'autore. Entro il 18 gennaio, quindi, scopriremo se Antinolfi avrà scelto la sua carriera di imprenditore nel campo della moda o se di contro. Vorrà tentare la carta del mondo dello spettacolo. Voi cosa ne pensate? Grazie. Grazie.